La mia storia con Isop inizia all'incirca cinque anni fa, ho fatto diverse stagioni. Questa è la seconda volta che faccio parte dell'Italia Poker Team, sono stato sempre bene e penso che continuerò. Sono entrato a far parte dell'Italia Poker Team grazie al pacchetto vinto dalla classifica squadre, il Bologna Poker Team, nato da un gruppo di amici di Bologna. Abbiamo avuto ottimi risultati, ci siamo piazzati a premio. Sicuramente con l'Italia Poker Team ho un appoggio da tutti, infatti ringrazio Sara, Giangia, tutti molto professionali. Sicuramente l'esperienza più bella di quest'anno è fare ITM, arrivare nei 100 in un torneo da più di 1400 persone, anche se con il ramarico di non aver vinto il torneo, però grandissima soddisfazione. Come obiettivi per il prossimo anno sicuramente parteciperò a tappe ISOP perché hanno un'ottima struttura, molto giocabile, molto tecnico e vediamo, speriamo bene. Saluto tutti i ragazzi di Bologna, i ragazzi del circolo del club e tutti quelli che mi hanno sostenuto. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!